ciao ragazzi oggi ultima uscita prima di tornare tutti quanti ahimè in quarantena abbiamo scelto tornare in un posto che era da un po che tra una cosa e un'altra non tornavo qui a edelcito proprio quasi al centro delle marche ognuno che secondo me è uno dei borghi più belli sicuramente e forse anche d'italia è questo piccolo borghino borghetto come chiamarlo sopra questo sperone di roccia dentro poi questa valle che dà sulla montagna ecco che forse non si vede il san vicino che poi un po interessante perché un'unica montagna che qualche modo si vede in questa zona quindi di per sé è già un posto davvero unico ed è perfetto quindi per fare diciamo una bella foto paesaggistica e per quanto riguarda le condizioni per questo diciamo ultima giornata di libertà onestamente ci aspettavamo un po diverso io e mario il mio amico barra collega che sta là giù in fondo aspettare un po la condizione che cambi perché ci aspettavamo con la neve infatti diciamo che fino adesso è stato bello innevato infatti tutta la zona qui intorno a noi è bella innevata a parte proprio il cito e questa zona qui e onestamente era un po di qualche modo già pensavamo dove poter andare poter in qualche modo scegliere una location diversa e invece ripensandoci ha anche il suo vantaggio perché onestamente se non ha nevicato come in questo periodo non ha più nevicato poi qui avremmo trovato tutta quanta neve smossa sporca piedate ovunque e quindi ecco a parte pulire tutte quante poi con photoshop sarebbe stato davvero un grosso lavoro e verrebbe assurdo dato più problemi che altro quindi forse è bene che qui non ci sia e invece se solo un po sul paesino e dietro sulle montagne proprio attista dietro sulle montagne detto questo quindi è tolta un po la condizione e il tempo come al momento è un po troppo soleggiato per i miei gusti infatti prima era un po più nuvoloso questa mattina giù nella piana nelle valli all'operazione però da nevicare quindi speravamo poi trovare del tempo un po più misto invece per adesso sembra si stia aprendo però in qualche modo ecco non ci diamo troppo per venti infatti adesso grossomodo non faremo proprio il paesaggista proprio classico quindi aspetteremo fino all'ultimo che qui in qualche modo scenda la luce arrivi il tramonto e poi anche il crepuscolo per fare diversi scatti sicuramente qualche scatto al tramonto ci sarà e forse forse anche un piccolo time blending con un po di luci sia del paesino che arrivano un po tardi se non mi ricordo male e poi sicuramente del cielo sopra con le stelle perché ecco le notti invernali sono perfette per fare queste cose perché sì non ci sarà la via lattea però almeno l'aria è un po più fredda e quindi c'è meno foschia e il cielo notturno ci vede anche meglio quindi ecco probabilmente immagino scatti con il grand'angolo che sto già visto e montato e ecco non sicuramente credo con il teleobiettivo perché siamo davvero molto molto vicini probabilmente ci metteremo ecco poco più avanti sperano sempre che turisti barra visitatori non ci smettono esattamente davanti alle nostre fotocamere per fare le loro foto col telefonino ma ecco in qualche modo ecco ci crediamo e speriamo per il meglio detto questo ragazzi aspettiamo che la luce cambi quindi ci assettiamo ci prepariamo per fare lo scatto e niente quindi speriamo di riuscire a fare al meglio riuscire a strappare questa ultima foto da questo periodo di semi libertà che ha un po stancato onestamente e alla fine il tramonto più o meno c'è stato come ci immaginavamo il cielo si è aperto infatti come vedete sopra di me non c'è assolutamente niente e quindi onestamente primo piano non ci ha salvato lo stesso per così tanto infatti come vi dicevo la neve non c'è che in parte era già un po positivo perché comunque non può esserci neve sporca in primo piano però ecco con lo stesso i colori siamo a gennaio non è che siano tantissimi ci sono però delle rocce davvero molto belle qua davanti che sono piene di licheni gialle verdi davvero molto belle come diciamo soggetto che possono catturare attenzione primo piano però onestamente non bastavano più di tanto e la luce neanche troppo morbida sicuro non aiuta quindi cosa abbiamo fatto c'è che portare panoramiche io ho provato invece a scendere un po più in basso qua verso questo costone di sinistra e cercare in qualche modo trovare un primo piano più o meno salvabile e poi mettere in secondo piano il cito e in fondo i sibillini che sono davvero molto belli siamo un po lontani per riprenderli come è successo la scorsa uscita però comunque ci stavano a mettere in fondo e lente usata utilizzato 35 mm in questo caso f 11 iso 100 e il tempo sceglie la macchina è un classico da fotografia paesaggista dicevo la foto poi la metterò sicuramente credo non è che mi piace più di tanto perché è un po classico è un po monotona e quindi ci giochiamo la carta crepuscolo infatti siamo già quasi pronti adesso manca ancora la lanterna come poi ho utilizzato un'altra volta sono stati a di pietra rubbia la scorsa uscita che sicuramente metterò qui da qualche parte la lanterna con la sua luce calda è perfetta da mettere quando ci sono fondamentalmente condizioni del genere quindi una forte ombra o luce blu è perfetta da contrastare con la luce calda quindi adesso cosa facciamo semplicemente aspettiamo ancora come nostro solito ci copriamo perché diciamo che il vento si fa sentire in questo posto ed è abbastanza freddo e niente speriamo che la luce scenda metteremo qualcuno qualmente mario che c'è già il giulbetto giallo per quella luce calda avanti e cerchiamo di comporre la foto ancora una volta sicuramente 35 50 mm tutta apertura e si vedrà speriamo bene alla fine la lanterna ci ha salvato come sempre il crepuscolo a questo momento magico dove lanterna davvero comunque una fonte di luce fa la differenza e con questa condizione sicuramente siamo riusciti a tirare fuori le foto di una giornata che fino alla fine non sembrava proprio così promettente detto questo ragazzi spero vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti con un like per l'appunto o con un commento la foto che avete preferito e riusciamo con un nuovo video qui su feel thunder